Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 che apriamo rioccupandoci della vicenda ombrina amare. Entro 120 giorni lo Stato dovrà versare nelle casse della Rockhopper 190 milioni di euro e l'esito dell'arbitrato su questa vicenda che si è in questo modo riaperta. Vediamo il servizio. Lo Stato italiano ha perso l'arbitrato con la società inglese Rockhopper ed è stato condannato a pagare 190 milioni di euro alla multinazionale che a largo della costa dei Trabocchi avrebbe voluto sviluppare il progetto di estrazione petrolifera noto come Ombrina Mare che però fu sventato per la ferma opposizione e insistente battaglia delle associazioni ambientaliste e dei cittadini delle località interessate che non avrebbero voluto vedere deturpata una location tra le più suggestive d'Abruzzo. Proprio il 1 agosto 2016 gli ambientalisti si ritrovarono su un Trabocco per brindare alla fine di Ombrina. Oggi però c'è un conto salato da pagare come ha reso noto ieri una delle figure in prima linea per questa battaglia la docente universitaria Maria Rita Dorsogna che punta il dito contro i tre arbitri che hanno preso la decisione motivata dal fatto che l'Italia ha violato un trattato, l'Energy Charter Treaty. Se da un lato ride Sam Moody, il CEO della Rockhopper, cui lo Stato deve quella ingente somma entro appena 120 giorni dall'altro la Dorsogna rivendica il fatto che l'Abruzzo è stato salvato dalle trivelle mentre dal WWF arriva un appello, anche se i margini sono molto stretti, affinché le istituzioni italiane impugnino la decisione. Il centro per le controversie ha ritenuto che l'Italia avesse violato il trattato sulla carta dell'energia che il nostro Stato aveva firmato nel 1994 e l'Italia è uscita da questo trattato nel 2015 ma è ancora soggetta a mantenerne alcune condizioni. Ricordiamo che con la legge di stabilità del 2016 lo Stato italiano aveva di fatto vietato la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa. Da quello che si legge nel comunicato stampa della stessa società, lo Stato italiano ha 120 giorni per poter opporsi a questa decisione. Ci auguriamo che lo Stato lo faccia e che accolga la volontà del territorio, la decisione presa dagli enti territoriali, di andare contro questi progetti che tra l'altro ormai sono obsoleti e dobbiamo guardare all'uscita dal fossile, quindi puntare su impianti che riguardino le energie rinnovabili. Questa mattina è stato firmato il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che assegna risorse per il sistema idrico abruzzese, 55 milioni di euro dal PNRR per ridurre le perdite del sistema di distribuzione idrica dell'Abruzzo. Lo ha reso noto il senatore Luciano D'Alfonso. Nell'ordine ha segnati circa 17,5 milioni di euro alla Sasi SPA, 5,3 milioni di euro alla SACA SPA, 6,1 milioni di euro per la CAM SPA, 11,6 milioni di euro per la Ruzzoreti SPA e 15,8 milioni di euro per l'ACA SPA. Adesso gli enti aiutati da tutti noi, ha dichiarato D'Alfonso, mettono in esercizio i progetti esecutivi per appaltare. Il PNRR va messo in esercizio subito, non va ridiscusso. Ci spostiamo ora a Chieti per rassicurare i residenti circa le preoccupazioni relative alle conseguenze idrogeologiche che potrebbero derivare dalla realizzazione del complesso residenziale dove sorgerà anche un Eurospin in zona Pietra Grossa. Siamo andati sul cantiere a fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e il loro eventuale impatto sulla morfologia del territorio. Selenia Secondi Vanno avanti celermente i lavori per la realizzazione della struttura che ospiterà l'Eurospin in via Masci in zona Pietra Grossa a Chieti ma che ospiterà anche delle palazzine di edilizia residenziale. Lavori che hanno sollevato alcune polemiche nei cittadini ma la loro preoccupazione dal punto di vista delle problematiche geologiche e idrogeologiche a che punto sta? Quando ci sono degli interventi, oltre a Eurospin verrà anche un altro capannone commerciale, alcune decine di appartamenti e quando si fanno degli interventi di questo genere sicuramente ci sono degli impatti. Impatti che non riguardano me come geologo, di tipo paesaggistico, autorizzativo eccetera e poi impatti anche di carattere proprio idrogeologico, geomorfologico. Quindi stiamo parlando di un intervento di una certa dimensione, cioè di parecchie decine di milioni di euro, stiamo parlando di piccole cose. Quindi per cui è inutile dire che l'impatto non c'è, l'impatto c'è. Cosa si sta facendo per limitare proprio lo scavamento di questa collina? Esatto, abbiamo oggi però i mezzi per poter agire in sicurezza. L'unico problema è che molto spesso la diplomazia ci ferma, una volta perché bisogna fare l'analisi delle terre per lo smaltimento e quindi ci troviamo in situazioni che non sono quelle finali del progetto, ma sono delle situazioni intermedie. Faccio un esempio, qui stiamo lavorando in una situazione come dire che andiamo contro mano, cioè nel senso che abbiamo fatto degli scavi a valle e proseguiamo verso monte. Avremmo dovuto fare esattamente il contrario, però per tante ragioni contingenti le cose sono andate così. Quindi ci troviamo in una situazione intermedia che può rappresentare un pericolo se i lavori vengono fermati, vengono rallentati. Noi dobbiamo agire per arrivare il più presto possibile alla situazione finale, con delle opere di paratie, drenaggi e sistemazioni superficiali di tipo di ingegneria naturalistica. Ad oggi che tipo di interventi geologici sono stati attuati? Oggi sono stati attuati una prima paratia a valle, è stato già realizzato il capannone che forse vedete alle mie spalle ospiterà l'Eurospin. Poi stiamo facendo un monitoraggio mediante un drone ad altissima precisione, una stazione totale, per vedere, per tenere sotto controllo tutta la collina, non soltanto alcune parti della collina. In più abbiamo messo anche degli inclinometri per vedere e controllare eventuali movimenti che ci dovessero essere nel frattempo. Per il momento però non c'è alcun movimento. Per il momento non c'è alcun movimento. Sono 920 casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il tasso di positività è pari al 18,18%. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.620 con l'unico caso odierno. Nelle ultime 24 ore sono 766 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 25.476 più 153 rispetto a ieri. 162 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, meno 15 rispetto a ieri. 8 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. 160.000 euro per le famiglie bisognose con Pescara Solidale. Vediamo il progetto che è stato illustrato a Palazzo di Città. Progetto Pescara Solidale, Assessore, quali sono i contenuti di questa iniziativa? Aiuti concreti per i cittadini e per le famiglie. Ricordiamo che avremo tanti beneficiari perché abbiamo un importo di oltre 160.000 euro, quindi di risorse. E saranno degli aiuti concreti, potranno essere sia dei servizi per i servizi, immaginiamo delle famiglie che vorranno fare dei corsi d'inglese, oppure corsi di informatica, oppure partecipare a dei centri ricreativi, ossia nell'acquisto di forniture, che vanno a seconda dell'iniziativa, a seconda del progetto a cui aderirà la famiglia, potranno andare da 0 ai 17 anni. Quindi potranno andare dall'acquisto dei pannolini, all'acquisto delle pappette, per i più grandi per acquistare libri, o un pc o un tablet. Quindi sono delle misure concrete di sostegno. E poi dall'altra parte, quindi un aiuto sia per le famiglie, ma anche per le attività economiche, perché questo è un po' un fattore che ci dà tante soddisfazioni, perché intercettiamo queste ricorse nazionali, le portiamo nel territorio, sono 160.000 euro che potranno essere spese per le nostre attività economiche, che quindi daranno anche un concreto attivo a tutti gli operatori che aderiranno alla piattaforma. Quante sono le famiglie che beneficeranno di questi Y-Cher? In totale sono 360, quindi un numero abbastanza ampio. Diciamo che di solito sono 475 euro, quindi la media è 475 euro, che in alcune situazioni si vanno ancora a doppiare, nel caso in famiglia ci fossero anche dei ragazzini disabili. Sono degli aiuti, ti ripeto, degli aiuti concreti, perché noi anche come politiche sociali, ringrazio qui a fianco a me, abbiamo Pier Antonioli che era responsabile del servizio delle politiche sociali, ci rendiamo conto che gli aiuti non bastano mai, però in questo contesto e soprattutto sono aiuti immediati, perché noi andremo da qui a metà mese di settembre, già siamo a metà mese di settembre, già una volta che avremo aspettato tutte le pratiche, immediatamente daremo questi rimborsi, quindi misure concrete e veloci. Torna alla fruibilità degli sportivi il Centro Trisi di Montesilvano, dopo i lavori di riadeguamento, una struttura che ora vuole essere importante anche sotto il profilo del sociale, il servizio. Peglio del nastro per lo storico Centro Sportivo Trisi di Montesilvano, che da questa mattina torna a nuova vita, dopo gli interventi di riqualificazione che hanno creato nuovi campi, adeguamento di quelli esistenti, allargamento a nuove discipline e uffici rinnovati. Una bellissima giornata non soltanto per la nostra città, ma per l'intero territorio provinciale. Il Centro Trisi è un centro importantissimo da un punto di vista sportivo e grazie a un investimento di un milione e mezzo, a cui seguirà un'ulteriore somma di 750 mila euro ottenute tramite la partecipazione a un bando, abbiamo in qualche modo migliorato in tanti aspetti un centro già importante. Sono stati riqualificati gli spogliatoi, ma non solo, sono stati realizzati due campi da paddol, campi in terra battuta che erano esistenti qui nella struttura, sostituiti i tendoni e fatto tanto altro che gioverà alla struttura, ma a tutti coloro che la frequenteranno. La gestione dell'impianto è stata assegnata all'azienda speciale di Montesimano perché il centro sportivo deve essere anche punto di riferimento per la socializzazione. Sarà una sfida perché ovviamente è la prima volta che ci cimentiamo in questo ambiente, però abbiamo già molta motivazione all'interno della squadra che abbiamo costituito e quindi vogliamo e abbiamo raccolto questa bellissima sfida e speriamo che questo luogo non sia soltanto un luogo di sport, ma anche di aggregazione, di integrazione e di scambio e di crescita, quindi senza limiti di età, dai bambini agli anziani, anzi dove magari nonno e nipote possano svolgere delle attività sportive insieme e anche momenti ricreativi. Sindaco, chi è giusto ringraziare per una giornata come questa? Sicuramente il settore tecnico, il dirigente, il tecnico comunale Mirko Parlione che ha seguito i lavori, le editte che si sono alternate, l'azienda speciale che ha seguito al fine della gestione, ma un ringraziamento particolare mi sento di rivolgerlo al dottor Francesco Trici che tanti anni fa ha voluto realizzare questa struttura e una volta deceduto ha regalato alla città e al comune questo bellissimo centro. L'Aurum di Pescara ha ospitato questa mattina la presentazione dell'evento 10 giornate in pietra di Letto Manopello nelle Pescarese per la valorizzazione della pietra della Maiella. Vediamo. Torna questo interessante appuntamento di Letto Manopello per la valorizzazione della pietra della Maiella, un appuntamento a cui l'amministrazione comunale tiene in maniera particolare. Tiene in maniera particolare, ormai sono tre anni che abbiamo ridato luce a questa manifestazione, quest'anno abbiamo Ugo della Porta, un grande artista contemporaneo, grazie soprattutto al contributo del professor Giacinto Di Pietrantonio, noto critico d'arte, nonché ex direttore della Brega di Bergamo. Abbiamo ridato questa luce perché Letto Manopello merita questa manifestazione, merita perché è, sappiamo benissimo, nominata come città della pietra con legge regionale. Insomma, tante novità, 10 giorni intensi per tutta la cittadinanza, verranno costruiti ancora altri pietrales che poi verranno messi sulle pareti delle case del centro storico e poi a seguire verrà costruito proprio un percorso turistico dove tanti operatori turistici già si stanno interessando su questa nuova visione dei murales, che poi li chiamiamo pietrales, perché sono proprio delle opere messe sulle mure delle case. Sindaco, questi eventi hanno anche un altro obiettivo, quello di valorizzare, di far conoscere ancora di più le aree interne della nostra regione, spesso penalizzate? Certo, sì, questo tipo di attività vanno a valorizzare quello che è proprio l'identità delle comunità. In questo caso Letto Manopello viene identificato come città della pietra e quindi si viene proprio a valorizzare questa identità in questa manifestazione che appunto prende tutta la parte conoscitiva e quindi del territorio stesso. Interesse per i monumenti religiosi e storici sono le caratteristiche del turismo indirizzato verso l'Abruzzo, stando ai dati raccolti tra le guide turistiche. Abbiamo intercettato dei turisti arrivati a Chieti dalla Lombardia e li abbiamo intervistati. Vediamo. In linea con i dati che parlano di un turismo a Chieti cresciuto considerevolmente in quest'estate 2022, continuano a scegliere la città e l'Abruzzo come meta di vacanza anche i turisti italiani. Grande interesse per le testimonianze religiose, artistiche e storiche. È appena giunto a Chieti un gruppo di brianzoli, come mai avete scelto di venire qui in vacanza? Ogni anno scegliamo di una destinazione, quest'anno abbiamo scelto l'Abruzzo non solo per le bellezze naturalistiche ma anche le bellezze artistiche e soprattutto perché avendo anche così ripercorso alcuni luoghi di miracoli eucaristici e anche quindi Lanciano e Manopello sono un punto di riferimento per noi e quindi anche vedere la ricostruzione dell'Aquila e tante altre cose belle e importanti di questa regione. Qui a Chieti in particolare cosa avete già visto? Qui a Chieti abbiamo visto la cattedrale, abbiamo visto il teatro e ora la guida ci condurrà a vedere le altre cose belle e la cripta certo della cattedrale, quindi vediamo un po' quello che Chieti ci offre e già quello che abbiamo visto è spettacolare, bello e quindi interessante. Signora Emilia, lei da dove viene? Brianza. Dove precisamente? Briosco, Brianza. Come le è sembrata a Chieti? È abbastanza molto bella, affascinante perché si ricorda un attimino un po' la nostra storia dell'invasore, di questo e di quell'altro, mi ha ricordato la storia ecco diciamo. Domani dove si va? Non mi ricordo perché ho un po' manopello, glielo suggerisco io. Va bene manopello, va bene. Cambiamo pagina, sono stati resi noti i vincitori del premio Dean Martin che verrà consegnato nell'ambito dell'Assemblea del Cram che si terrà a Vasto. Il servizio. Si torna a parlare del premio Dean Martin, edizione del 2022, questa mattina sono stati resi noti i nomi dei vincitori che verranno premiati nell'ambito dell'Assemblea del Cram. Sono Antony Molino, saggista, scrittore, psicanalista, e Berenice Rossi, saggista anche lei, soprattutto ricercatrice delle culture degli abruzzesi nel mondo in Argentina, Valeria Di Santo, presidente dell'Associazione degli Abruzzesi nel mondo negli Emirati Arabi, Fabrizio Farri che è un ingegnere, si occupa di fincantieri in Cina e responsabile della produzione di navi da crociera e poi abbiamo veramente questo personaggio che ci onererà con la sua presenza che è Maurizio Mariano, noto legale del Sudafrica di origini abruzzesi ma soprattutto ha camminato a fianco di Nesson Mandela nelle battaglie contro le persone più svantaggiate. Premieremo come premio Gaetano Crucetti due artisti locali che sono Stefano Angelucci e Danilo Di Paolo Nicola che è il responsabile dell'orchestra del Saltarello, quindi questa orchestra che sta spopolando e che sta rallegrando le nostre serate estive in Abruzzo. Ma avremo tanto altro di più, orchestra di Marti in diretta da Antonella De Angelis, Lara Molino, cantautrice abruzzese che ci racconterà anche questo viaggio dell'immigrante ma Valerio Di Rocco che con la sua voce ripercorrerà quei brani famosi di Marti in Franzinatra. Sono stati calcolati circa 1.300.000 abruzzesi o figli o nipoti di abruzzesi presenti oggi nel mondo di cui diverse migliaia organizzate iscritte nelle liste anche degli italiani residenti all'estero che quindi hanno anche diritto di voto e con decine di associazioni nei diversi stati nazionali che continuano a tenere viva, vitale, presente la memoria, la cultura e l'attività dell'Abruzzo. Premieremo anche degli abruzzesi eminenti nel mondo, grandi dirigenti, persone socialmente impegnate, studiosi, ricercatori e ricercatrici che ci onorano della loro attività e che conservano un legame profondo con il nostro territorio, tanto che saranno presenti in persona a basto a ricevere il premio di Martini che approfittando dell'occasione di questa riunione in presenza del CRAM, quest'anno verrà conferito nell'ambito di questa riunione, nell'ambito di questa occasione mettendo insieme questi momenti che sono comunque dedicati alla promozione e allo sviluppo e alla premiazione della cultura abruzzese nel mondo. E a Francavilla al Mare c'è stata la presentazione della manifestazione al Cenacolo in programma al Paese Alto i prossimi 26, 27 e 28 agosto. Tre giorni tra arte e cultura. Il servizio. C'è questo importante appuntamento il 26, 27 e 28 agosto con al Cenacolo, un evento a cui tenete in maniera particolare? Sì, l'estate non è finita, concludiamo con uno degli eventi a cui teniamo in particolar modo. Dopo una pausa dovuta al Covid torniamo con il Cenacolo che è una manifestazione non solo di divertimento ma anche di grande livello culturale in cui ricordiamo la storia di Francavilla, la storia culturale di Francavilla fatta da Francesco Paolo Michetti, Gabriele D'Annunzio, Tosti, Barballa e tanti altri che hanno trascorso numerosi anni qua e hanno prodotto tanto portando la cultura abruzzese al di fuori dei confini abruzzesi e anche nazionali. Quindi è bene che questi momenti culturali servano anche da volano per il turismo di Francavilla. Un evento di grande valenza perché parla della nostra grande tradizione culturale e Michetti è la storia della cultura non solo francavillese ma italiana e tutto quello che ruotava intorno a quel Cenacolo a fine 800, D'Annunzio, Tosti, De Cecco, Barballa, Scarfoglio, ce ne sono tantissimi, Matilde Serau. E quindi celebrare la nostra grande tradizione, focalizzarci su alcuni aspetti che non sono ancora conosciuti, per esempio le musiche di Tosti riarrangiate per orchestra e fiati, non solo quindi la proposizione per pianoforto e canto. È un modo nuovo di parlare di quel periodo, di celebrarlo e di prenderci anche qualche spunto, noi abbiamo una grande eredità. E poi avremo la serata del premio culturale MUMI in cui si parlerà di solidarietà, di messaggi importanti. Quest'anno omaggeremo Adop Sabrenza, il messaggio che porta con sé e che deve essere sempre da monitor, visto tutto quello che ci accade. Inizieranno domani e fino a domenica gli eventi per la festa di Maria Santissima di Ponte a Porto in località Frondarola di Teramo. Stamani la presentazione. Iniziamo domani con tre giornate, finalmente di sicuramente parte religiosa perché la festa è dedicata ad una Madonna per noi importante che è quella di Santa Maria di Ponte a Porto. L'accompagniamo oltre che con la processione di domenica mattina, inizierà alle 5 di mattina e poi ci sarà la messa a seguire, sempre nella chiesetta di Ponte a Porto che invito veramente a visitare perché è una chiesa storica di un borgo appartenente alla frazione di Frondarola. Quindi domani iniziamo per gli amanti del liscio con un gruppo, come potete vedere dal programma, un gruppo musicale, i Cabo del Liscio. Sabato invece ci saranno un gruppo di ragazzi che faranno musica anni 70 e domenica ci sarà l'intrattenimento da parte della compagnia del teatro dialettale, la bottega del sorriso. Questo è lo spirito di poter ricreare un qualcosa sui nostri borghi, borghi comunque antichi per cui vale anche la pena di venirli a visitare in queste occasioni ricreative e associative. Questo è l'obiettivo che si pone quest'anno, questa festa rievocativa ma più che altro per riunire la parte religiosa, la parte ricreativa quindi con il nostro comitato e come diceva anche il capitano della nostra squadra di Frondarola far conoscere una squadra che comunque opera da diversi anni in ambito sportivo e far sentire proprio l'appartenenza al nostro borgo anche dal punto di vista sportivo. La pagina dello sport dopo Tencorang finito all'Entella sfuma un altro obiettivo di mercato per il Pescara con King Udo che passa dall'Olbi al Cesena. Per il centrocampo oltre Palmiero e Delizio il DS Delicarri sta vagliando il profilo di Robert Gucker del Pisa. Tra i pochi reduci della rosa della scorsa stagione vi è il terzino Tommaso Cancellotti che resta biancazzurro benché sia in scadenza di contratto. Ascoltiamolo. Tommaso Cancellotti è uno dei reduci del Pescara dello scorso anno, sembrava dovesse andare via, poi invece hai convinto giorno dopo giorno il tecnico Colombo e oggi sei a Pescara. Sì, giorno dopo giorno mi sono impegnato, ripeto come ho detto prima grazie anche allo staff e ai compagni che mi hanno messo nelle migliori condizioni possibili perché quando hai un gruppo di ragazzi che lavora tanto e lavora sodo ti viene naturale dare il massimo. Non che questo prima non avvenisse però come ho detto in precedenza si respira davvero un'aria molto positiva dove conta lavorare, conta il particolare, questo ti porta a tirare fuori il meglio di te. A chi dice che questo Pescara è il Pescara di oggi perché mancano ancora dei giorni alla fine del mercato, è un Pescara inferiore tecnicamente almeno sulla carta a quello dello scorso anno? Tu cosa rispondi? Rispondo che alla fine c'è il rettangolo verde che parla quindi siamo carichi per dimostrare che non è così, che il lavoro che stiamo facendo porterà i propri frutti, siamo una squadra nuova ma di persone vere che hanno grande voglia di dimostrare, di lavorare, di darsi da fare, di sudare la maglia. Può essere per te un problema giocare sapendo probabilmente che il prossimo giugno andrai via? Sono disposto comunque ad accettare di rimanere scadenza e come ho detto in precedenza ad accettare il rischio di rimanere scadenza, mi concentro giorno dopo giorno nell'allenamento quotidiano e a dare il massimo per questa maglia fino a quando sarà. Poi se la società mi darà l'occasione di rinnovare il contratto e di poter rimanere qua a Pescara ne sarò contentissimo e fino a quel momento io darò il 200% per il Pescara e per potermi guadagnare sul campo il rinnovo di contratto. Il club Quelli del Delfino ha dato il via alla campagna di tesseramento per la nuova stagione a unire tante persone, il tifo per il Pescara ma anche momenti di socializzazione e beneficenza. William Gelsumino, quelli del Delfino ci sono, ci saranno sempre al fianco del Pescara se riparte per una nuova stagione, se riparte con il nuovo tesseramento? Sì, ci saremo sempre, l'obiettivo è quello di essere sempre vicino alla nostra squadra del cuore con il nostro gruppo di amici che ci sostiene sempre eppure oggi è venuto numeroso. Noi alla fine facciamo sempre l'aggregazione fuori casa, quest'anno ci sono un po' di trasferte proibitive quindi cercheremo di farle tutte ove non sia possibile, organizzeremo sempre dei piccoli eventi qui in sede per vedere le partite insieme, una serata magari tra due rosticini e due cose insieme, ovviamente oltre a tutti gli altri eventi di beneficenza che facciamo sempre e grazie ai quali comunque abbiamo conosciuto tante persone e tanti amici che anche oggi sono presenti qui con noi. Fiducioso per questo nuovo campionato? Guarda, il fatto che il campionato inizi una settimana dopo magari aiuta la società a comprare quei piccoli tasselli all'ultimo giorno di mercato, se riescono a mettere a segno quei due o tre tasselli che mancano, io già mi sono sbilanciato prima, a maggio ci vediamo la nave di Cascella. Al di là di tutto, buone sensazioni, sono positivo perché la squadra vedo che si è formato un nuovo gruppo senza magari alcune scorie del passato e quindi li vedo più motivati i ragazzi. Si è svolta stamani l'udienza al Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Teramo contro la decisione del Tar dello scorso 3 agosto che aveva confermato l'esclusione del club bianco-rosso della Serie C, così come già deciso dagli organismi sportivi. Difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari del DCF Legal, il Teramo chiede la riammissione nel terzo campionato nazionale. La sentenza è prevista per la giornata di domani, saranno dunque ore di grande attesa per un verdetto che condizionerà l'immediato futuro. La Teramo Calcio in subordine ha chiesto l'ammissione al campionato di Serie D. Se il ricorso della società dovesse essere accolto in pieno, Serie C, o in parte, Serie D, andrebbe a interrompersi l'iter del Comune di Teramo che, tramite bando, ha individuato la neosocietà SS di Città di Teramo, i cui soci ieri hanno incontrato la commissione comunale presieduta dall'avvocato Gianni Gebbia, ottenendo l'ok circa la solidità di un progetto che sta aggregando almeno 40 tra imprenditori e società commerciali. Tornando al Consiglio di Stato, una volta emesse le sentenze per Teramo e Campobasso, la Lega Pro procederà con la compilazione dei calendari. Ed ora il volley, andiamo ad ascoltare il Presidente dell'Abba Pineto, Guido Abbondanza, Sergio Zappalorto. E' chiaro che il nostro impegno è stato massimo in questa campagna acquisti. Questo è sicuro, e anche nelle precedenti, se vogliamo. E' stato massimo. Diciamo che quest'anno forse abbiamo anche alzato l'asticella sicuramente rispetto agli altri anni, proprio perché il progetto di questa società è quello di tornare in A2. e quindi stiamo ormai lottando da due anni per questo traguardo e incrociando le dita e speriamo che arrivi il prima possibile. All'orizzonte vedo che quest'anno, come noi abbiamo alzato l'asticella, molte squadre si sono organizzate. Vedo all'orizzonte squadre molto organizzate, molto attrezzate. Diciamo che il girone nostro, insomma, ci sono due o tre formazioni che faranno molto bene. E vedo molto bene anche il girone sud. Il girone sud con Ortona, Aversa, insomma, vedo che come noi abbiamo alzato l'asticella si è alzato proprio in generale. Insomma, non a caso il nostro giocatore Milan è sceso dall'A1 per venire in A3, quindi lui aveva un contratto con Siena. Quindi questo testimonia il fatto che il livello si è alzato e come è successo su Pineto sarà successo sicuramente in altre società. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione. L'appuntamento è con le prossime edizioni del TG. Grazie.